Ciao ragazzi, siamo tornati con le missioni settimanali di Fortnite, settimana 9, like e ve le spiego subito, velocemente, visita il mondo sotterraneo, assolda un personaggio, raga, atterrate qua o lo visitate durante la partita e poi assoldate un NPC ovunque, perché comunque qua non ce n'è, e andiamo avanti, ottene oggetti di rarità epico superiore qua, in questo caso raga io vi consiglio di andare negli avamposti, che ora non ci linka, però gli avamposti ce n'è uno qua, per esempio a Tana ce n'è uno qua, da queste parti qua, comunque ve li linka se andate sulla missione inizio partita, o comunque a una certa, adesso non lo so perché lui ve li fa vedere, e appunto prendete un'arma epica, se no, killate un boss e la trovate nei bunker in giro, sopravvivi ai giocatori, dovete sopravvivere a 99 giocatori, quindi in più partite si fa facilmente, oppure ne vincete una, tira e elimina i giocatori con le catene di aghe, catena di aghe, quindi mondo sotterraneo, ve la droppa, o da no, non la droppa raga, la dovete trovare voi, comunque qua in giro si trova abbastanza semplicemente, e prendete l'avversario, lo tirate verso di voi, 10 avversari, percorre una certa distanza con l'aspetto o l'agilità, sono i medaglioni, uno di ade, uno di cerbero, dovete percorrere 250 metri, si fa abbastanza facilmente anche questa, se non trovate i medaglioni, passate in live, che vi aiutiamo noi a trovarli, e questo, un kill a un nemico, mi sembra, dopo 5, entro 5 secondi da una scivolata, uno scatto, o lo scatto del mondo sotterraneo, quindi, o i poteri appunto di, di cerbero, oppure, nell'acqua verde, oppure una scivolata, così, oppure un'arrampicata, vediamo se ce la fa fare qua, cosa ha, e sono semplicissime, raga, like, per supportare il canale, oppure un'inscrizione sempre a te, ciao!